Promette ulteriori ed interessanti sviluppi l'inchiesta giudiziaria avviata dalla Procura della Repubblica di Gela sulla residenza assistita sanitaria caposoprano di Diapalazzi. La documentazione sequestrata ieri nell'ambito del blizio congiunto di Polizia e Guardia di Finanza è ritenuta assai importante. Sono sei le persone attualmente indagate con l'accusa di abuso d'ufficio, concussione falso e truffa in danno di enti pubblici. Ben 25 le perquisizioni eseguite. È noto che la RSA caposoprano sia legata all'attuale direttore generale del Comune, Renato Mauro. Sotto chiave sono finiti documenti cartacei, informatici e documentazione relativa alle società interessate. Non è escluso che nel calderone giudiziario possano finire anche esponenti politici che avrebbero avuto un ruolo specifico affinché la struttura sanitaria potesse essere aperta in difformità alle concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Gela. In scena, secondo i magistrati, sarebbe entrato anche il sindaco di un comune limitrofo a Gela pronto ad intercedere con alti funzionari ASP in cambio di eventuali assunzioni tra i corridoi della residenza sanitaria. Senza dimenticare l'appoggio in vista delle consultazioni europee tenutesi la scorsa primavera. L'intervento politico avrebbe permesso alla SST-SRL di aggiudicarsi 38 posti letto in convenzione con l'ASP 2 di Caltanissetta, secondo un bando pubblicato dall'assessorato alla sanità della regione siciliana. Del bando pubblico di 100 posti letto, di cui 58 in convenzione con l'azienda sanitaria provinciale nissena, ne furono accreditati proprio 38 alla società SST-SRL. Gli accertamenti dovranno far luce sui profili della regolarità urbanistica dell'immobile giolese che, secondo la procura, è stato realizzato in difformità rispetto alle concessioni edilizie rilasciate e che gli abusi realizzati non potevano essere sanati laddove il comune ha rilasciato autorizzazione di agibilità a cambio di destinazione d'uso. Requisito essenziale ai fini dell'accreditamento e della successiva stipula della convenzione con l'ASP 2 di Caltanissetta era proprio l'emissione da parte del comune giolese, ufficio sportello unico per le attività produttive e del certificato di agibilità sanatoria relativo all'immobile. Il cambio di destinazione d'uso dell'immobile, che ospita la RSA Caposoprano, si fonda su accertamenti svolti dagli enti competenti, ufficio urbanistica del comune di Gela, ASP 2, distretto di Gela, comando provinciale dei vigili del fuoco di Caltanissetta, i cui esiti appaiono di scostarsi dalle effettive situazioni di fatto, così come spiega la procura. Gli investigatori, tassello dopo tassello, stanno cercando di ricostruire il puzzle al fine di avere un quadro chiaro. Obiettivo è quello di accertare se i pubblici funzionari abbiano rispettato le norme di principi di diritto amministrativo di imparzialità ed indipendenza della pubblica amministrazione, sia con riferimento ai procedimenti di materia urbanistica che alla sussistenza dei requisiti tecnico-sanitari dell'attività intrapresa. Grazie. Grazie. Grazie.